Grazie Presidente. A livello politico questa Assemblea, questa maggioranza, si è più volte espressa in quest'Aula per dare degli indirizzi politici ben precisi. Non solo in qualità di Presidente della Commissione patrimonio, devo dire anche che come maggioranza abbiamo chiesto a tutti i consiglieri e ci stiamo impegnando noi stessi in prima persona a finalmente dare delle regole, creare un regolamento per le concessioni, proprio perché purtroppo i casi che abbiamo trovato sono estremamente eterogenei. Per quanto la volontà politica sia, e più volte espressa, quella di salvaguardare le attività socioculturali, è vero anche che noi non abbiamo il diritto di entrare nel merito di atti amministrativi così precipui, cioè ad hoc in questo senso. L'Assemblea è giusto che si esprima politicamente e che si esprima su indirizzi generali, però non possiamo forzare gli atti di tipo amministrativo e qualsiasi consigliere può, perché ne ha assoluto diritto, fare un accesso agli atti e capire nel merito il perché l'amministrazione, non sotto impulso politico, ma l'amministrazione abbia proceduto con lo sgombero dell'Associazione. Ci tengo a sottolineare che stiamo parlando di un atto di concessione e non della memoria dei fratelli Mattei. Questo perché è importante dirlo, proprio perché dobbiamo fare molta attenzione a non confondere i piani, a non confondere i rapporti di tipo contrattualistico, amministrativo, con ciò che invece rappresenta la memoria di una storia che deve invece rimanere salvaguardata e ad un livello sicuramente superiore rispetto anche a quello a cui si sono riferiti i colleghi che mi hanno preceduto. Quello che è successo ai fratelli Mattei è una tragedia che non ha nessun colore politico perché atti di tale violenza non possono essere caratterizzati o giustificati da ideologie politiche, sono atti di violenza e per questo è giusto che siano ricordati, è giusto che la memoria non si perda ed è giusto che la si salvaguardi. Ma questo aspetto non è assolutamente da confondere con quello di cui stiamo parlando oggi, che è completamente un'altra cosa. Per questo motivo questa maggioranza si asterrà nel votare questa mozione. Grazie.